L'acceleratore Spiega, spiega, spiega Che stai facendo Spiega, spiega Dell'acciaio liquido, il procedimento Cos'è che stiamo facendo? Indurendo Stai indurendo Così c'è scritto Lo giro qua nel bordino Ma si è un po' Si indurisce secondo te? Ma poi è di mezzo Dipende Cos'è che aviccita? Non fai un'imagine si indurisce Si indurisce re Ma ha catalizzato almeno? Se catalizza siamo fottuto Se catalizza fa puff E' duro La PTA che non si perde mai Guarda quegli occhialini da Fabbro, David Vieni, pesce dal sangue Fa una botta lì La S è anche questa Dentisti Dov'è? Dov'è qui? Questo è Dentisti senza frontiere Guarda E' lui Tutti e due dentisti A se? Laurezza Insieme? Si Spesso La tecnica del Miscellare resine possidiche Non ci batte nessuno E' manualità E' vari troiai che fanno male ai polmoni Ho capito che da oggi non verrò mai più da uno di voi due Carlo spiega che questa è una manualità per farlo diventare duro E' protesi vedenti Ma no Non mi regge il gioco ragazzi Hanno la manualità di far indurire Come dice cicciolina Vabbè dopo due minuti di cazzate penso che possiamo staccare e metterlo su YouTube E' un simbolo Urasaki Urasaki A TTA E' anche questo Tampona Lesione Tampona 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 Tampona